Lo sai qual è la scusa più utilizzata da chi non riesce a raggiungere i propri obiettivi ed avere successo nella vita? Non ho tempo. Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi ragazzi voglio parlare di una delle frasi più usate e di cui abusiamo di più. La frase non ho tempo. Il tempo è una costante universale nel senso che il tempo è uguale per tutti. Il tempo che ho a disposizione io è lo stesso tempo che ha a disposizione Warren Buffett, Bill Gates, Elon Musk o il tempo che hai a disposizione tu. Sono 24 ore al giorno. Anche riuscendo a dormire il giusto perché comunque 6-7 ore bisogna dormirle per ricaricarsi e poter ottenere una giornata performante il giorno dopo. Quindi togliendo alle 24 ore almeno 6-7 ore stiamo parlando di avere 17-18 ore nella giornata. Anche se siamo molto bravi e riusciamo ad organizzarci molto bene, alla fine sono 12, 13, 14 ore quelle che possiamo dedicare al lavoro quando veramente vogliamo dedicare anime e corpo ad un progetto o ad una cosa. Perciò le ore che abbiamo sono limitate. Non è che il tempo è poco, è come gestiamo e organizziamo il nostro tempo. E vi dirò un'altra cosa che tutte le volte che qualcuno mi risponde non ho tempo, in realtà la frase che mi sta dicendo e quello il messaggio che mi vuole mandare è non è importante. Perché è proprio lì la differenza più grande. Non avere tempo per fare qualcosa vuol dire che il nostro cervello o perché sta boicottando quello che dobbiamo fare o perché lo sta usando come scusa oppure perché è la verità, sta dicendo quell'attività che dovrei fare in questo momento e per la quale non ho tempo di dedicarmici significa che non è importante e non ha una priorità rispetto a quello che invece farò dopo. È ovvio che molte volte viene utilizzata la scusa non ho tempo per fare cose più ludiche, più facili, studiare o leggere un libro tecnico o lavorare e rispondere a quella mail o preparare quella presentazione che proprio non ti va di fare. Bene, è più facile dire non ho tempo di fare quello però poi magari si trova il tempo per andarsi a prendere il caffè con un amico per andarsi a guardare un film su Netflix o per andare a giocare alla Playstation. No, per quello il tempo si ha sempre tempo per far quello. È difficile che per questo tipo di attività si risponda non ho tempo. Se state rispondendo non ho tempo per quelle attività evidentemente state gestendo bene il vostro tempo. Quindi questa è la prima cosa che dovete capire. Non ho tempo equivale a dire non ho, non è importante. E torniamo un attimo alla gestione del tempo perché questa è la discriminante tra chi riesce a raggiungere i propri obiettivi e quindi ad avere successo nella vita, che poi il successo ragazzi non è che necessariamente vuol dire diventare ricco ma avere successo vuol dire riuscire a fare nella propria vita quello che si vuole fare e per raggiungere i propri obiettivi. Questo vuol dire successo per quanto mi riguarda. Perciò ci sono varie tecniche per gestire il proprio tempo. Io ne conosco due perché ne ho utilizzate due ma ripeto ce ne sono davvero davvero infinite. La prima che ho studiato e che ho applicato nell'ambito professionale, addirittura l'applicavo già quando studiavo, è il GDT. GDT sta per Getting Things Done. Nasce questa tecnica da un libro scritto nel quale, in questo libro viene descritta qual è questa tecnica. Quindi potete andare ad approfondire, trovate, c'è anche la traduzione in italiano del libro, non so in italiano come l'hanno tradotto, comunque lo trovate sicuramente magari qui in sovraimpressione, adesso vi mando la pagina del libro in italiano. Quindi questa è una tecnica. La seconda tecnica è la tecnica del pomodoro, ed è la tecnica di cui voglio parlarvi oggi, perché è una tecnica estremamente semplice, mentre il GDT è una tecnica che richiede comunque, sicuramente quella va studiata, per applicarla vi richiede molto tempo per capire poi come applicarla e declinarla all'interno della vostra giornata professionale e lavorativa. La tecnica del pomodoro è estremamente semplice. Del resto, inoltre, anzi la tecnica del pomodoro è stata inventata da un italiano, e quindi oggi mi sento di volervi parlare di questo approccio alla gestione del tempo. La tecnica del pomodoro, chiamata così perché prende il nome, è stata inventata negli anni Ottanta, e prende il nome dal timer a forma di pomodoro che si usa di solito in cucina, o meglio che l'autore, Cirillo è il cognome dell'autore, dell'inventore di questa tecnica, aveva in cucina e utilizzava per scandire le sessioni di lavoro o di studio dalle sessioni di riposo. La tecnica è semplice, prevede sessioni di lavoro in cui ci si rimane concentrati e non, qualsiasi cosa accada, non si viene disturbati in quei primi 25 minuti. Quindi c'è una sessione di 25 minuti di concentrazione di lavoro e una sessione da 5 minuti di riposo. Riposo assoluto vuol dire fare meditazione se fare meditazione, vuol dire gestire altre cose, ma qualsiasi cosa all'infuori del lavoro. Quindi se lavorate davanti al computer, fate trading o investimenti, per esempio, dopo 25 minuti una bella pausa per sgranchirsi un po' le gambe, liberare il cervello, e questo serve un po' a ricaricarsi per poter affrontare la seconda tranche da altri 25 minuti. Quindi 25 minuti di lavoro, 5 minuti di pausa, così per 4 volte, alla quarta sessione da 25 minuti, si ha un riposo più grande, cioè si ha un riposo da 15 minuti. Quindi un'intera sessione nella tecnica del pomodoro dura in tutto 130 minuti. 4 sessioni da 25, con i 5 minuti di pausa in ognuna di queste sessioni, dopo la quarta un break più lungo da 15. Ragazzi lo sapete da cosa si fonda questa tecnica? semplice, ma che richiede molta disciplina, ve ne accorgerete. Si basa sul concetto che il cervello umano, per riprendere la concentrazione una volta che è stato distratto da qualcosa, ci mette circa 23 minuti. Ecco, pensate alla vostra giornata lavorativa. Siete seduti davanti al computer, state lì rispondendo alle vostre mail, preparando la vostra presentazione, siete lì oppure a guardare i grafici per capire se c'è la possibilità di entrare e aprire un'operazione a mercato. Ricevete una telefonata o vi arriva un'email e vi fate distrarre da quella telefonata, da quel messaggio Whatsapp, da un messaggio Facebook, da una notifica. Oggi le notifiche sui cellulari ci bombardano e sono il nostro principale nemico nella gestione del tempo. Bene, nel momento in cui defocalizzate, quindi togliete l'attenzione da quello che state facendo e rispondete al telefono, rispondete al messaggio Whatsapp o Facebook o fate qualsiasi altra cosa. In quel momento state completamente deconcentrandovi da quell'attività e il vostro cervello per riprendere la concentrazione quando vi ci rimettete sopra a quell'attività, impiega circa, lo dicono degli studi, non lo dico io o non lo dice l'autore della tecnica del pomodoro, impiega circa 23 minuti. Pensate a tutti i diversivi che durante una giornata avete. Diversivi intendo dire, mi vedete a fuoco, sì, per diversivi intendo tutto quello che vi distrae e vi disturba da quello che state facendo. Bene, ogni volta che venite distratti e lasciate a quella distrazione il potere di farvi smettere di fare quello che state facendo, ci impiegate una ventina di minuti per ritornare, anime e corpo, mentalmente parlando con il focus, con l'attenzione, su quell'attività. Fatevi un calcolo di quante volte venite distratti e capite bene quanta dispersione abbiamo in una giornata. Ecco perché, ragazzi, trovo che con qualsiasi... Scegliete voi la tecnica, scegliete voi la modalità, potete farlo anche, ci sono dei software anche che vi permettono di gestire il vostro tempo. Comincerate da questo. Prima ancora di scegliere la tecnica, monitorate la vostra giornata di studio, la vostra giornata lavorativa, la vostra giornata di trading. Monitoratela con un taccuino, fatelo per una settimana e vi scrivete ogni volta che vi mettete a fare quello che dovete, vi scrivete quando venite disturbati, per quanto tempo venite disturbati, quando vi rimettete a fare quell'attività, quando venite di nuovo disturbati, quando vi sentite che vi serve un break, una pausa, scrivetevele queste cose. E guardate, è importante partire dalla coscienza di sapere come la vostra giornata, dal punto di vista dei task e degli obiettivi che dovete fare, viene portata avanti, è fondamentale. E poi è ancora più importante metterci sopra una tecnica per gestire al meglio la vostra performance quotidiana, perché ragazzi, affrontare la giornata per portare avanti i task che avete, che servono nel breve termine, i task giornalieri che avete, nel lungo termine, sono quelli che vi portano sempre più vicino, giorno dopo giorno, a raggiungere l'obiettivo che vi eravate prefissati. Quindi, più tempo venite distratti e meno riuscite tempo a dedicare a questi task nelle varie giornate, più tempo ci metterete ad arrivare al vostro obiettivo. La verità è che una persona che non gestisce il proprio tempo e risponde sempre che non ha tempo per fare le cose, è una persona che è altamente probabile non riuscirà ad ottenere un bel tempo, un bel niente dalla propria vita, perché non è lui a governare il tempo, ma è il tempo che governa il tempo e tutte le, tutto quello che gli succede intorno, tutte le distrazioni che gli succedono intorno, che governeranno la sua vita. E questo spero che tutti si rendano conto che non dovrebbe accadere, dovremmo essere noi in totale controllo della nostra vita e in totale quindi controllo del tempo che secondo dopo secondo, minuto dopo minuto, scorre. Ragazzi, lasciatemi qui sotto un commento per dirmi se voi già utilizzate delle tecniche, quali utilizzate, se vi trovate meglio con una, con un'altra, raccontatemi la vostra esperienza, un like se il video vi è piaciuto, soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati ogni volta pubblico un nuovo video, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!